Amici di Orega TV, bentornati. Oggi siamo a Venezia, a Laguna Palace Hotel NH e siamo qui per l'Acqua Fair, la fiera biennale dedicata agli operatori dell'acqua da bere e ai sistemi di filtrazione dell'acqua. Siamo in compagnia di Marzia Mariotti, la presidente di Water Cooler Italia, l'organizzatrice della manifestazione. Buongiorno Marzia. Buongiorno. Che cosa è successo stamane nel corso della mattinata e del convegno che intanto avete tenuto? Allora Acqua Fair è un evento che è stato organizzato dall'associazione italiana Water Coolers Italia. Water Coolers Italia è un'associazione che riunisce gli operatori del settore dei water coolers, quindi dei distributori dell'acqua, erogatori d'acqua al punto d'uso e imboccioni. Non solo i distributori ma anche tutta la filiera, quindi i produttori, il comparto, anche degli accessori di coloro che sono intorno al mondo del water coolers, quindi dei dispenser dell'acqua. L'associazione è già da due anni che ha deciso di organizzare questo evento Acqua Fair qui a Venezia che è un contesto molto bello e diciamo proprio il contesto adatto in quanto c'è l'acqua intorno a noi in tutto l'ambiente. È una location a tema. Sì, è proprio la location a tema, giusto. In Acqua Fair, oltre alla parte fair, feristica, c'è anche una parte congressuale. Stamattina abbiamo aperto la mattinata con un convegno dedicato a tutte le tematiche riguardanti l'acqua, quindi avevamo come esponenti della nostra associazione europea, Water Coolers Italia fa parte dei Water Coolers Europe, che è l'associazione a livello europeo che si occupa, gestisce, distributore dei Water Coolers, distributore comparto filiero dei Water Coolers. Il segretario dell'associazione ha aperto la mattinata parlando, raccontando un po' quello che fa l'associazione europea. Il direttore generale ha poi proseguito facendo vedere quelle che sono l'andamento del mercato, le quote del mercato e la crescita dei vari del settore e le potenzialità future di questo settore, di questo mercato. È seguita a questo intervento, è stato presentato da parte della dottoressa Rosalacola Grossi e del dottor Giorgio Temporelli un progetto che è quello di realizzare un piano di sicurezza, legiferare e regolamentare i point of use. I point of use sono gli impianti collegati alla rete idrica, quindi quella parte degli distributori dell'acqua che si collegano direttamente alla rete dell'acqua. e che questi distributori sono chiusi, non sono in pubblici esercizi. Quindi il manuale che l'associazione Water Coolers Italia insieme alle altre associazioni del comparto che sono IACU, l'associazione acqua di qualità, Amitap, l'associazione che si occupa riguardo il comparto degli installatori Acqua Italia, hanno deciso di fare, di progettare questo nuovo tipo di piano, questo piano di sicurezza, per legiferare e regolamentare un comparto che per ora non è ancora regolamentato e sta crescendo in forte crescita sia a livello nazionale sia a livello europeo. E ancora, avete parlato anche della plastica? Sì, un'altra tematica molto importante è quella della plastica perché è uscito un nuovo decreto legislativo europeo che si estende a tutti gli stati membri, che regolamenta l'utilizzo della plastica e quindi Erika Simonazzi di FLO, direttore marketing di FLO, ha spiegato quelle che sono in realtà, ha cercato un po' di farci capire quello che vuol dire il decreto e quelle che sono le importanze della plastica e che cosa vuol dire effettivamente plastica, riciclaggio e come vengono, devono essere riciclati i vari tipi di materiali. Grazie per la collaborazione, amici, noi iniziamo il nostro giro di interviste brevissime per mostrarvi quanto viene presentato qui all'NH Laguna Hotel a Venezia. Grazie Marzia. Grazie.